Per gli amici di Bazzblog, la Penera è a Monbello e siamo in compagnia di Massimo. Ciao Massimo. Ciao a tutti. Massimo è il referente dell'associazione Il Popolo per i Diritti e la Libertà. Di cosa si occupa la tua associazione Massimo? Ma guarda, la nostra associazione è nata proprio per creare un mutuo soccorso fra le persone che più avevano bisogno al momento. Cioè c'è stato un momento dove tante persone sono state abbandonate, erano sole e noi quando ci siamo resi conto dell'aiuto che si poteva portare a queste persone abbiamo creato tramite un direttivo e di conseguenza persone intorno a questo direttivo che volevano lavorare proprio per supportare le persone che più cercavano questo aiuto. Quindi dando loro magari un supporto a livello anche alimentare perché magari non potevano uscire di casa e abbiamo portato loro le spese a casa. persone che erano sole e quindi avevano bisogno di questo, persone che avevano bisogno anche solo di un medicinale non potevano uscire di casa, abbandonate a se stesse. E di conseguenza da lì il gruppo ha iniziato a prendere una certa strada, a prendere un altro percorso e stiamo cercando di organizzare tante cose sul territorio. Quindi siete nati come risposta a quelle che sono state le restrizioni per il coronavirus? Assolutamente sì, assolutamente sì. E come mai ci troviamo qui questa sera a Monbello? Ci troviamo qua perché con altri amici come Donato, con cui condividiamo già il percorso del coordinamento Piemonte, ci siamo resi conto che potevamo creare una struttura importante sul nostro territorio e cercare di prendere uno dagli altri una certa conoscenza di argomenti che alcuni altri non avevano e quindi magari un aiuto reciproco. Insieme crediamo che possiamo avere una grande forza sul territorio. Come vedi il domani? Diciamo che se siamo preparati potremo avere un futuro, potremo portare sul tavolo una soluzione ed è importante assolutamente che questo avvenga, perché quello che ci stanno propinando loro è chiaro che è tutto molto annebbiato. Le piazze negli ultimi mesi, se non nelle ultime settimane, si sono un po' svuotate. Cosa fare per riportare la gente in piazza e farla sentire nuovamente coinvolta? È giusto che il popolo si renda conto della consapevolezza dei propri poteri. Se il popolo riesce a comprendere quanto è importante sapere che comunque il popolo ha in mano il potere, ecco allora che potrebbe cambiare la regola del gioco. Dobbiamo riempire le piazze ma dobbiamo prima informare le persone, dobbiamo dire loro che cosa è importante e per quale motivo è importante scendere in piazza, ma dobbiamo farlo uniti e questo è fondamentale. Qual è il tuo personale motivo che ti ha spinto a fare tutto ciò che hai fatto dall'associazione ai movimenti di piazza negli ultimi due anni? La sofferenza della gente. Questo ha cambiato veramente qualcosa in me. Ero stanco di vedere la gente soffrire. La gente ha bisogno di aiuto, non tutte le persone hanno la forza di reagire e io credo che noi dobbiamo essere fondamentali per loro, per tutte le persone che veramente sono più deboli. Massimo io ti ringrazio per la tua testimonianza, un saluto agli amici di BuzzBlog. Grazie mille e un saluto anche a voi. Grazie mille e un saluto anche a voi.